Musica Bah, sono troppo bravo eh Musica E ciao a tutti ragazzi Ben ritornati nel 93 Episodio del che video è Ah già sono Lorenzo Cioè è importante, è la prima cosa Lo so raga, perdonatemi Sono passata in più di due settimane Dall'ultimo che video è Stavo guardando giù A parte gli scherzi Eccoci ritornati nel Che filmato è Pronti per vedere altri video pazzi O scemi Video sicuro l'op di Pilly Eilish Che ne ho fin sopra i capelli Vabbè, ben ritornati nel che video è Iniziamo va, ciao ciao The first Susseguirsi di immagini Me lo manda il Purple Gamer Sono davvero così cattivo? Sì Mi dispiace Per sposarmi con te Lore guarderesti questo? Va bene Vai Due secondi Tu non mi spaventi You don't scare me Eat the toilet No fermo PewDiePie Fermo un attimo Un attimo Ho visto Purple Gamer Tu mi sorprendi Il prossimo video me lo manda La fidanzata di Lion Anna Guardiamo Mi chiamavano The Watchman FNAF Secret Animatronics In Ultimate Custom Night Vediamo Minirina Ciao Minirina Altro animatore di segreto Shadow Bonnie Insomma Tutti animatronici Che abbiamo già visto Perché ce l'ho fatto scurare Ti ringrazio Anna Per avermi inviato Questo video Li conoscevo tutti Peggio dei Pokémon E passiamo al prossimo Il prossimo Me lo manda Una Fusion Tra Friske E Cara C'era C'era Una volta Ovvero Just Lorenzist No non sono Just Rave Dopo che l'hai ascoltata Devi cantarcela Vete davvero Sentire le mie doti canore Doki Doki Liter of Rep Doki Doki Forever In versione Italiana Ah è tipo una cosa Vai Questi sono dei ragazzi Con i capelli Femminili L'ho fatto Non mi interessa Era stranato Era un po' di tempo E' la prima volta Che la sento Quindi la cantavo Proprio Non sapendo nulla BASSA Il prossimo video Me lo manda Lucilla Cacciatore Aspetta Aspetta Beccato Buon ciao Lorenzo Guarda questa pubblicità Divertentissima Guardala Le 10 scuse di Lorenzo Per non fare il bagno Fanpage Vediamo Lorenzo Vuoi venire a fare il bagnetto Le 10 scuse di Lorenzo Per non fare il bagno No no Aspetta 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 No ragazzi Fateci meme Vi prego Fateci meme Fateci meme Prendete sta faccia E fatemi meme Guardiamo Guardiamo Mi sto simpatico Vuoi venire a fare il bagnetto? Le 10 scuse di Lorenzo Per non fare il bagno Numero 1 Vuoi venire a fare il bagnetto? No mamma Devo fare i compiti per domani Ma tu vai solo all'asilo Ah E' vero Numero 2 Quella non è ità elementare Quanti anni hai? Piccolo Lorenzo Numero 2 Lorenzo Mamma Io ti voglio tanto bene E' il bagnetto Ma io l'ho detto Questo non va all'asilo Massimo le ventari Andiamo a fare il bagnetto Fuori il bagnetto troppe volte a settimana Potrebbe fare male Dottore E se lo dice lei? Lavatevi Che puzzate Lorenzo Non so perché Mi sento risentito in questo video 10 Lorenzo Lorenzo C'è solo a messi un corpo Tutto questo per sponsorizzare Vidal Ti ringrazio Lucilla Cacciatore Per avermi inviato questo video Passiamo al prossimo Del successivo Il prossimo video di questo Che video è? Me lo invia Sense Andrea M.G Ti prego Lorenz Lorenz Ste guota Questo video figata Va bene Lo faccio per Chi sono? No Guardiamo il video Giorgio Defa All's dance Fiat sense Baldi Devo farlo Ragà Devo farlo Per forza Pronti? Ma cos'era? Bellissimo Sta degenerando la situa Ragazzi Passiamo al prossimo Il prossimo video di questo Che video è? Me la manda Una capra 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 Ignorante Giulio Capra Caro signor presidente Presidente La prego di visionare questo video Altrimenti Don K Kong Mangia torrimi il gatto Vediamo Un'ora di Don K Kong Not Funny Didn't Love Non è un'ora Mi ha mentito Sono 59 minuti e 59 secondi Vai E questo è per un'ora Non credo di resistere Vediamo fin dove resisto Not Fun Didn't Laugh Not Fun Didn't Laugh Not Fun Ok Sto riuscito a riprendere la parola Grazie Giulio Capra Passiamo al prossimo Il prossimo video Me lo manda E' il Dio del nuovo Kira Yoshikage Che non è Kira Il Kira È un altro Lorenzi Stan Konichiwa Guarda questo video Se non vuoi che libri Buzz the dust Problema Guardiamo il video A cazzo Sei pregioso Yoko Non so dove vorrei arrivare Lo sapevo Tutto a Giorgio Su reference Non sono io che le metto Siete voi che me le mandate Passiamo al prossimo Il prossimo video Me lo manda Parto Cesario Il re è necessario Che scrive Guardalo oppure Don Revit Ucciderà Non sarebbe la prima volta Guardiamolo Donald Trump Canta Baby Shark Baby Trump Baby Trump Baby Trump Baby Trump Anziché dire Baby Shark Baby Trump Mami Trump Do 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 Mami Trump Do 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 Mami Trump Ehm 8 milioni di risolizzazioni Il prossimo video Che uscirà Su sto canale Sarà Papa Francesco Canta Ti ringrazio Cesario E passiamo Alla prossima animazione Momento Canoro Il prossimo video Me lo manda De The Striker Mio caro donato Signor L'oree Non so Ho notato che piace Che le piace Ormai Già che ci siamo Guardalo Lo faccio Lo faccio Sarà sicuramente Una Giosos reference Non leggo nemmeno Il titolo Per assaporarmelo Nooo L'hanno fatto Nooo 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 No davvero Nooo Cosa diavolo ho visto E' troppo bella Sta cosa Grazie mille Strecherone Di morti Ok ragazzi Io direi che Il video di oggi Lo posso anche Terminare qua Spero tantissimo Che questo Ennesimo Episodio Del che video E vi sia piaciuto E nulla Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non lo avete ancora fatto Vi piace tantissimo I pollici In su Per il prossimo Video Del che video E seguitemi pure Su Instagram Qua dal vostro Lorenzista E tutto E noi ci rivediamo Ad un prossimo OVUNE, 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 OVUNE! Al prossimo episodio